ore 5 e 20 del mattino si vuole al pitti ed eccoci qua ragazzi siamo arrivati al pitti oggi in realtà è il secondo giorno nel video poi avrete visto qualcosina avrete visto qualcosina c'è già marcolino qua eccolo lì continuiamo col giro vedete dopo i profumi e le mie esperienze ciao ragazzi oggi vi farò vedere qua su youtube le cose più interessanti che vedrò ve le film e poi se le faccio vedere ciao 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 No, spettacolo non mi è. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci ragazzi, siamo tornati a casa finalmente, faccio questa ripresa alla fine di tutto il pitti, così per spiegarvi un attimo cosa sarà questo video. Volevo innanzitutto ringraziare tutti coloro che ho visto, salutato, parlato, mi hanno tenuto compagnia in questo pitti 2023, il mio primo pitti, la mia prima fiera fatta appunto a Firenze. E volevo appunto dirvi che questo pitti è stata un'esperienza davvero davvero bella, importante per me, per capire anche certe dinamiche, certe situazioni e ovviamente per conoscere gente nuova e non solo. Ci tenevo a ringraziare ovviamente coloro con cui sono andato in giro in prima persona a questo pitti, ovviamente saluto e ringrazio anche tutti coloro che ho solamente salutato, con cui ho passato del tempo insieme. Questo video semplicemente farò passare delle immagini a cui io ho fatto le riprese, senza sotto niente, solo con un po' di musica, qualche effetto, per farvi appunto vedere i brand che più mi hanno stupito in questo pitti 2023. Infatti le riprese non sono fatte a caso ma sono fatte ai brand che personalmente ritengo più interessanti e più innovativi all'interno del pitti fragranze. Per quanto riguarda campioni, recensioni, situazioni eccetera, farò ovviamente qualche live o qualche video in edito sia qua su YouTube, sia su TikTok, sia su Instagram, quindi seguitemi anche lì, se appunto non l'ho già fatto. Quindi adesso godetevi il video, ciao ragazzi! Ciao! Eccoci qua ragazzi, terzo giorno di pitti, siamo qua con Falchetto e siamo qua con Marco, terzo giorno di pitti, come giorno 2? Giorno 3, per te giorno 2, giorno 3 vi facciamo vedere come al solito, passano immagini, video, delle fragranze che più mi hanno interessato, ci vediamo dopo, ciao ragazzi! Ciao! 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 finali le farò quando tornerò a casa tranquillo magari l'avete già vista in parte non so come monterò questo video e niente poi ovviamente tutti i sample dei brand che mi hanno dato gentilmente ovviamente ne parlerò vi farò sapere quali sono i miei più interessanti magari farò una top una classifica di quelle che mi sono piaciuti di più comunque vedrete tutto dopo questo video anche su instagram su tik tok su tutte le altre piattaforme quindi seguitemi e niente come faremo delle belle cose delle belle cose Ciao 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 Ciao